Ciao a tutti bentornati sul canale oggi con l'occasione siamo qui e abbiamo pensato di fare un video di confronto io oggi ho portato il mio cold steel di cui poi vi farò vedere e Andrea e Claudio oggi siamo rincontrati, abbiamo avuto l'occasione di incontrarci tutti quanti hanno portato i loro coltelli quindi Claudio ha portato un bel extrema razio Toberman in acciaio appunto N690 un gran bel coltello, forse uno dei, mi permetto di dire, uno dei modelli migliori no, versatile versatile che produce extrema razio molto versatile e Andrea ha portato il suo Wild Mose di Simone Tonoli un altro bel coltello, questo qui in Neolox un altro bel coltello da uso anche pesante, da campo e quindi andremo un po' a fare la comparativa di questi due coltelli che si assomigliano diciamo, no, possono essere, diciamo che questo confronto ci sta forse, sì, stessa fascia prezzo stessa fascia, sì, prezzo e anche stessa fascia di dimensione portelli di buona qualità, come lunghezze siamo lì abbiamo detto il Doberman siamo sui 17, 18.6 18.6 cm di lama il Wild Mose sarà 17,5 cm quindi vedete che praticamente la differenza è minima 6,3 mm spessore per il Doberman qui abbiamo invece 5.7 del Wild Mose bisellature, entrambi sabre qui ha una lavorazione particolare che Simone realizza sui suoi coltelli CNC il manico in questo caso è in G10 anche questo ha lavorato in CNC sì, esattamente e qui abbiamo il classico manico dell'estrema razio che dovrebbe essere neoprene neoprene, no? neoprene neoprene, esatto e niente, andiamo visto che c'è l'occasione mi sembrava interessante, no? per chi aveva magari interesse su uno di questi due modelli o su entrambi andiamo un po' a confrontarli a vedere nei lavori da campo come si comportano essendo simili dimensioni, proporzioni, prezzo e più o meno, se fosse, no il Wild Mose pesa un po' di più però comunque sia essendo la stessa categoria diciamo esatto un bel confronto ci sta beh, dai iniziamo con chopping proviamo il Doberman daremo un po' di colpi a testa così per vedere se più o meno le impressioni si equivalgono iniziamo con questo bel ramo secco bello grande vediamo esatto un po' di colpi col Doberman un po' di colpi col Wild Mose vediamo 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 come taglia siamo quasi a metà tronco sembra lavorare bene proviamo Wild Mose che è la lama un po' più corta ma più alta come altezza lama adesso invece spacca vedi partono i pezzi provate voi anche date qualche colpo Claudio che tu avevi piacere di sì sì ero curioso di provarlo effettivamente vediamo un bel taglio un po' di colpo ci sono bene adesso vediamo un po' di colpo soldi i ritaglia giriamolo così anche andrea mettiamolo così così anche andrea a modo di ciò fare ci facciamo tutti e tre un'idea diciamo che questo taglia parecchio proprio tanto affetta proprio il legno e nonostante tutto comunque spacca bene ma quando c'è più massa battente però c'è una bella massa no la c'è più coltello nel legno ok sì perché poi quando entra frena però diciamo che è un po più vuotato allo spacco più che al taglio puro bene andiamo a vedere come si comportano inizierai col doberman guardate che legni che abbiamo cioppato superman lavora molto bene devo dire noto bello vai vai c'è mezzo noto questo lo facciamo con il wild mose diciamo che vanno entrambi molto bene il wild mose nel batoning devo dire che va molto bene non 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 Grazie. Andiamo a vedere adesso un po' di lavoretti fini, che dite? Vediamo come si comportano. Il legno è ultra secco praticamente. L'impugnatura è buona, si riesce a prendere bene davanti, quindi a fare anche una discreta forza e controllo sulla lama per il Wild Mousse. L'affilatura del Doberman sembra più incisiva però, anche se io sento un po' di fastidio a questo livello, qui dietro, qua, non sto usando guanti, ma questa sporgenza qui dietro la sento tutta sulla mano. Però vedete che, sì sì, questo assolutamente, questo parte qua, se non si usa quei guanti, a me la fastidio, questa protuberanza qui. Però la lama, il taglio, l'affilatura, mi sembra più penetrante. Provate anche voi. Sì, perché questo avendo un filo più alto, è leggermente, non è proprio conversato. Un po' più incisivo, lì, tutto il lavoro. Il taglio è fenomenale. Sì, c'è un'ottima dote di penetrazione, la lama, questo senza alde. Sì, leggermente fastidio qua, perché essendo scoperto, esatto, poi fa quella gobba. Proviamo col pollice sopra, così. Leggermente spigolosa. Ah, dicendo, eh. Sto facendo tipo un po' più di lavoro. No, però. Prova il Waldemose. Proviamo questo. Meno incisivo. È un altro angolo, eh. Devi chiudere un po'. Così, vedo. Mamma! Perché ha un filo molto più sottile. Mamma! Fai provare anche Andrea. In pugnatura è più comoda questa. In pugnatura è più comoda, eh? Sì, perché c'è un po' più controllo. Sì. Anche se il filo è più... Sì, quello è più... Vedi, questo è un tagliente, veramente, guarda che bello. Sì, proprio taglia bene il legno, è un buon appoggio. E a me da leggermente fastidio quest'angolo anche. Eh, sì. Che proprio quando vai a premere... È proprio lì. Te lo senti lì. Forse col guanto sarebbe meglio, ma... Sì, ma... Quando c'è caldo non è che... No, beh, è chiaro. In carità, vediamo. L' Waldemose. Taglia pure, per carità, però... No, taglia, taglia. Come filo preferisco quello. Vabbè, il filo poi, alla fine, se uno lo vuole più alto... Sì, infatti lo alzerò un po'. La manicatura, l'ergonomia, non c'è paragone. Questo è molto più comodo in mano. Cioè, sembra proprio che a seconda la forma della mano. È non stanca. Proprio, guarda, io metto le mani qui, il palmo. È perfetto. L'ergonomia non c'è paragone. No. Bene, andiamo a fare un po' di lavoro di punte, di carving, con questi coltelli, e vediamo un attimino come si comportano. Vediamo il Doberman. In questo, in questo lavoro, mi da meno fastidio, rispetto a fare, a fare stick. Questa è che metti un po' meno forza. Ah, lavora bene. Beh, è la punta perfetta. Certo. Anche il Wild Moose, eh. Beh, secondo me, cambia un dolfino, questo si trasforma. Quello sta anche da solitare. Cioè, il fatto che si è spuso spesso, non mi ha mai, per cavolo. Devo rifare. Stiamo avendo quell'appoggio sul piatto là. Beh, ci credo. Metti il pollo. Sto be' coltello. Allora. Allora, un'acqua con il Doberman. Anche questo lavora bene, così. Due colpi. E già ho fatto, praticamente, con il Peccucci. Tu trovi. Il filo fa tutto. Sì, la geometria è tutta, ma il filo è fondamentale. Provate voi. Però però una cosa. Questo che... Così diciamo sempre che quello pesa 3,36 e quello 4,65. Vedevo quell'impugnatura all'inglese, no? All'inglese, sì. Sì, all'inglese, scusa. Questo è proprio lì sul nodo. Sul nodo. Però... Vabbè, qui forse il manico... Un po' più rettilineo del Doberman, lo avvantaggia. Adesso lo provo anche così, per carità, però, ti dico, secondo me, secondo la scuola, in questo caso, il coltello, proprio, lavora meglio. Molto più controllato e l'impugnatura è ottima, così, secondo me. Molto bene, secondo me, anche con questa impugnatura all'inglete. Molto più controllato e l'impugnatura all'inglese. Quello, secondo me, c'è la lama, c'è il filo più incisivo. Sì. Più alto. Ecco. Però questo, guarda, quando spacchi, spacca. Ma si crede che spacca. Va bello pesante. Due bei coltelli. No, no, siamo al top. Di livello. Fanno punti di forza. Entrambe le case costruzze hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Uno artisanale e uno semi industriale. Sì. E' più industriale, forse. E' più seri. E' sì, estrema Lazio, del tutto industriale. Ecco qua la punta. Insomma, scelta di utilizzo. Cioè, chi può preferire uno piuttosto che l'altro, ma secondo me si equivalgono. Poi uno eccelle magari in qualcosina, l'altro in qualcos'altro. Ma, se parla di particolare, comunque sia. Sono due coltelli che comunque sia, non ti abbandonano. Allora, diciamo, da quello che, quello che mi riguarda, allora innanzitutto parliamo di due coltelli comunque, di fascia. Vogliamo dire intanto made in Italy? Made in Italy. Che non è... E' tanta roba. Che non è qualcosa di rilevante. Due made in Italy. O non di Italia. Uno artigianale, di Simone Tonolli, che salutiamo. E uno, diciamo, semi-industriale, perché sembra che molti passaggi sull'estrema, alcuni passaggi in estrema razio vengono fatti manualmente. Ma, semi-industriale, va. Sì. Sì, la finitura dell'affilatura viene fatta manuale ancora. Poi i foderi dobbiamo anche mostrare ai nostri amici. Tu ce li hai dato? Sì. Allora, per quello che mi riguarda la mia impressione, Nel chopping ho trovato più confortevole il Doberman. Comunque, su un manico plastico, dava un po' più di comfort. Il filo si incastrava un po' meno, il tagliente del coltello. Nel Wild Mose, questo ovviamente, parlo di utilizzo senza guanti, comunque. Queste, diciamo, protuberanze, scanalature, in un uso prolungato del chopping, le avvertivo un po' con i colpi, con gli impatti. Nel batooning sono andati bene entrambi. Ho trovato un pochino più penetrante il Wild Mose, un pochino più incisivo, e spaccava veramente bene. Spaccava benissimo anche il Doberman, ma nonostante qualche millimetro di differenza in favore del più del Doberman, il Wild Mose mi è sembrato fare un gran bel lavoro. Diversamente nei truccioli, il Doberman, questa protuberanza e questo bordo abbastanza squadrato, nei lavori di spinta, io lo avvertivo, nei lavori di controllo, che comunque questa parte della mano è quella proprio che spinge e riesce a controllare la lama. Trovavo più confortevole il Wild Mose. Nel carving, nel lavoro di taglio puro, il filo un po' più alto del Doberman e questa curvatura di lama, io l'ho trovato leggermente più incisivo, sotto questo aspetto. il Wild Mose è anche un po' più pesante, siamo intorno a 4,65 contro 3,36, esatto, quindi siamo con quasi un netto di differenza, si sente in mano, si sente in mano. Facciamo vedere i foderi, allora Doberman, questo è il classico fodero cordura dell'estrema razio, hanno fatto questa caratteristica che è spettacolare, si può girare, esattamente, si toglie anche, volendo, si può disassentare e poi è totalmente modulabile, completamente modulabile, su questo secondo me ha fatto un lavoro eccezionale perché hanno fatto un fodero veramente polivalente. Esatto, Wild Mose fodero in kydex fatto da Simone, ultralight, ultraleggero, veramente, un orrogio svizzero, entra come un orrogio svizzero, preciso proprio. Si abituati ai tonoli a dei lavori, è veramente bello, questa è la mia impressione, volete, dite anche la vostra, in modo tale che magari confrontiamo se ci sono delle differenze, ti dico, guarda, secondo me, qua Excel, ma adesso ha fatto veramente un bel lavoro, perché comunque ha un manico comodo, in determinate posizioni, e l'incisività della lama comunque sia un po' più forte che, nelle stanze mi dicono che non ti serve. Ok, no, dicevo che secondo me il Doberman ha una caratteristica più incisiva sul taglio, e sicuramente questo fa un po' la differenza rispetto magari al Wild Mose, che ha magari meno incisività, magari ha più massa battente, e quindi ha caratteristiche diverse. Come al solito il coltello perfetto non esiste, e tra i due confronti abbiamo due ottimi coltelli. Eh, qui la scelta è dura, eh, devo dire. Si, però sai cos'è Ramon? Se ci basiamo sul multiruolo, sono due ottimi multiruolo. E' un po' la sensazione. Si. Poi alla fine sono due coltelli che fai veramente tutto, e ci fai veramente di tutto. Però, come ogni volta, facciamo magari dei confronti, ogni coltello c'ha le sue caratteristiche, e la caratteristica positiva magari penalizza l'altra rispetto a una caratteristica successiva. Si, si. E quindi, in realtà, io li trovo due coltelli eccezionali, e con i quali effettivamente ci siamo divertiti tantissimo, e consigliabili alla grande entrambi, perché comunque si. Si, se cade in piedi, comunque l'uno o l'altro, secondo me. Secondo me sono due ottimi coltelli. Esatto. Difficile dire... A te la parola. Vai. Allora, 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 io inizierei dall'ergonomia. Allora, l'ergonomia che ha il tonolli è strepitosa, sempre proprio formato su una mano. Perché con questa lavorazione particolare, si, è vero, in uso prolungato può risultare leggermente scomoda, perché è molto grippante, in realtà però poi ti dà un'ergonomia fantastica, perché lo guanti e ce l'hai solido in mano. Sia che tu lo usi qui, o in arretrata, anche senza l'acciolo, lui sta lì nella mano. Poi, diciamo che questo coltello, io penso che Simone, questa particolarità, non è un tanto, però comunque abbiamo queste angolature diverse, tra il tagliente più basso, e poi che si, diciamo, alza d'improvviso, questo presumo anche per quando si cioppa, questa parte qui la salvaguardate. Forse è un po' come il Selvans, che l'Extrema Razza fa. Esatto, quindi si ha anche qualche centimetro, poi, di bordo, no? Vergine, per lavori più, un po' più fini, dettagliati. È una cosa molto interessante. Un uso prolungato gli dà più solidità, più duratura, quindi di conseguenza non è quella necessità di doverlo per forza riaffilare, cosa che qui potrebbe succedere, per carità, però poi lì sono scelte personali. Chi preferisce una cosa, piuttosto che un'altra. Quindi, secondo me, si equivalgono. Qualcuno ha un punto di forza in più, qualcuno ha un punto di forza in meno. Diciamo che l'Extrema Razza ha questa bella estetica tattica, però in alcuni casi, come qui, magari si preferisce l'estetica, ma si rinuncia al comfort, all'usabilità reale del coltello. Nonostante rimane fantastica di questo, la prima volta che utilizzo il Doverman ne rimango veramente, positivamente colpito. Come bordi, qui, è efficace con l'acciarino? Funziona, ma non è esattamente al 90 e c'è di meglio. Se poi lo facciamo. Così, perché poi gli amici me lo chiedono sul canale, è un aspetto... Una domanda frequente. Frequente, esattamente. Valutiamo anche questo aspetto qua. Però lo fa, eh? Sì, sì, vabbè, Neolox. Neolox fai... No, ma al bordo proprio... Nonostante non è totalmente al 90... Però lo fa. Il Doverman, come lo fa? Non credo. Eh, la copertura. Facciamo la copertura. Però lo vedo bello spuadrato. Si rovina? No, che sorvina. Eh, sono fatti per usare, no? Eh, che facciamo qua, eh? Pettigliamo le Barbie? Adesso, ecco, ora si sta togliando. Vai, 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 togli. Però non ce la fa. Non ce la fa. La copertura un po' che lo limita. No, appena si toglie, guarda qua come partono. Il 690 pure fa scendilla, eh? Qualcobalto lì. Beh, comunque la copertura non... Eh, ecco. Qualcosa, dai. Qualcosina. E' meglio il gualmose. E' meglio il gualmose. Fami un po' vedere. Eh, solo perchè ha la copertura. Tolta quella lui va, eh? Si, però non nasce per quello. No. Ah, vabbè, si. Eh, perchè ti devi tenere prima che inizi il controfilo. Se uno si tiene qua, dove è l'angolo giusto. Dov'è l'angolo? Quello che dà fastidio qui. Che si rispecchia qua. Si, però sai cos'è? Che questo, questa parte qua è stata studiata perché quando batoni e ti rimani incastrato, batoni qua per non rovinare il neoprene comunque. Probabilmente questo primo bordo qui, se fosse stondato, secondo me quel problema si ovvierebbe. E poi parte, comunque se si sfrutta questo tre centimetri di bordo, prima che parta il controfilo, lo fa. Lo fa. Vedete? Eh, avevi ragione te, togli un po' di copertura. Lo fa. E lui va alla grande. Lo fa, lo fa, lo fa, lo fa. Con il cobalto che ha dentro l'acciaio, forse è facile. Che dire ragazzi, oggi ci siamo divertiti con questi coltelli, con il Doberman e il Walmose, che consigliarvi è difficile. Qui abbiamo un aspetto tattico. Prendeteli entrambi. Tattico militare. Tattico militare, no? Il manico materiale plastico. Qui è un coltello artigianale. Secondo me che Simone ha pensato bene, insomma, ha progettato bene. Si può dire di no. Spero che il video vi sia utile. Abbiamo, ci siamo confrontati. Penso che siamo abbastanza, diciamo, di pensiero conforme tutti e tre. E poi soddisfatti entrambi. Soddisfatti. Quindi, niente. Una grande. Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate del video. Se avete domande, io o comunque Claudio tramite me e Andrea risponderanno sotto al canale. E niente, da me e dai ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi.